Davide Tagliavue per l'EcoFM, siamo con Carissoni, terzino destro dell'Eco, rientrante tra l'altro da un infortunio. Come ti senti? Hai recuperato completamente? Sei appena rientrato in gruppo? Quanto ci vorrà ancora per vederti sui campi in Serie C? Sto rientrando gradualmente col gruppo, ho fatto l'allenamento ieri, il primo allenamento, pian piano io comunque inizio a allenarmi, poi starà al mister e decidere quando reputerà che sono pronto, quando decidermi di far entrare o giocare tutta la partita, deciderà lui. Fisicamente come ti senti? Sei pronto per affrontare le prossime sfide che sono anche belle toste? Novara, Siena, Monza, che contributo pensi di poter dare a questa squadra e come pensi di poter incidere sull'undici che già viene schierato da mister Gaburro? Allora, in generale comunque sono tutte partite difficili, sto lasciando il nome, Monza, sono tutte partite complicate, non ci sono partite più facili, più difficili. Allora, innanzitutto non credo di poter dare un buon contributo alla squadra, nel senso che comunque un po' di esperienza ormai nella categoria l'ho acquisita negli anni. C'è anche da dire che momentaneamente mi sta sostituendo Magonara che comunque sta facendo alla grande. Quindi, ripeto, sarà il mister a decidere chi tra i due sta meglio e chi andrà in campo dovrà dare sempre il meglio per cercare di vincere la partita. È tornata la Serie C, dopo tanto tempo possiamo dirlo, l'eco che è ritornato nel calcio professionistico. Secondo te com'è stato l'approccio delle prime due partite, oltre a quelle di Coppa Italia in questo campionato? Dove pensate di poter arrivare adesso che, insomma, due test sono già stati fatti? Ma allora, io per quanto riguarda la partita di Arezzo non l'ho vissuta direttamente perché non ero convocato, quindi non posso neanche sbilanciarmi. Comunque ci può anche stare magari un po' di disorientamento all'inizio per la prima partita, magari un po' di emozione ci può anche stare. Invece, per quanto riguarda la partita di Vercelli, ero presente alla partita e mi ha fatto un'ottima impressione, così come dal primo giorno. Io ho ottima fiducia nei confronti della squadra perché, secondo me, ha un gran potenziale. Poi, ovvio, il campionato è lungo, ci sono mille episodi, mille problemi. Si spera sempre di arrivare il più in alto possibile, quello lo dirà il campionato. Prima non ti sei sbilanciato tanto. A Novara, possiamo pensare di vederti per qualche minuto la partita in corso? Adesso vediamo come va l'allenamento in questi giorni perché c'è sempre la possibilità di ricaduta, si sa mai. Se dovessi riuscire a allenarmi con continuità non lo escludo. Vi ricordiamo che l'Eco giocherà sabato sera a Novara, proprio contro il Novara e seguiremo la partita anche su l'Eco FM.